Tranquilli ragazzi, non succede nulla, cambiamo solo camera oscura, adesso vi spieghiamo perché, state lì! Ciao ragazzi bentornati, ciao Antonio, ciao Bruno, ciao a tutti! Allora come abbiamo detto all'inizio non è che abbandoniamo la camera oscura, sia mai questo, abbandoniamo quella camera oscura perché, pur essendo perfetta, vero Antonio, per fare la camera oscura, quindi per stampare, è disposta perfettamente, ma per i video invece siamo sempre un po' in difficoltà con le inquadrature, con l'attrezzatura, sì perché essendo stretta e lunga diventa un problema, ce ne siamo resi conto soprattutto quando abbiamo fatto questo video, che è quello del corso, un possibile corso che noi possiamo tenere nella camera oscura, di sviluppo del negativo e di stampa, lì abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, per cui Antonio ha trovato un altro posto e la stiamo trasferendo, la stiamo riallestendo, quindi rifacendo le operazioni che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi l'oscuramento, vi lasciamo anche qui sopra il video dove vedete cosa abbiamo fatto, con l'alluminio, la stiamo sistemando e soprattutto quelli che ci hanno chiesto quando è che fate ancora la live? Stiamo avendo già spostato parte del materiale dall'altra parte e purtroppo in quel posto, non avendo ancora in questo momento internet disponibile, ci diviene un po' difficile fare una live, però torniamo a fare tranquillamente le live, adesso è una questione forse di 15 giorni, c'è anche l'aria condizionata? C'è anche l'aria condizionata, fantastico, sapevo che c'era il riscaldamento, però c'è anche l'aria condizionata, questo mi fa molto piacere, quindi sarà questione di un paio di settimane, siamo pronti, non so se settimana prossima usciremo, vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa, magari consiglio, avete visto l'ultimo video del super ingranditore, anche lì ho avuto qualche difficoltà a posizionare le camere, perché quell'ingranditore essendo pesantissimo, penso che pesi circa un tre quintali, una cosa del genere, un 300 kg, quindi è là nell'angolo e diventava difficile, starà lì per sempre, demoliranno fra cent'anni la casa e sarà ancora lì, per cui state tranquilli che torniamo, è una questione di riorganizzazione degli spazi e di avere internet a disposizione, soprattutto per le live, perché noi abbiamo tanta voglia di fare le live, però... nel live si beve parecchia grappa, ecco, qui il vero motivo, cos'altro dire Antonio, adesso stavo dicendo consiglio, vediamo di fare qualche cosa magari per settimana prossima se riesco, c'è un'idea molto interessante, ho già visto una marea di macchine sul tavolo, mamma mia, mamma mia, mi viene male, però può essere un video molto molto interessante. Niente, ragazzi, era solamente un video per tenervi aggiornati, non siamo scomparsi come vedete, è solo appunto una questione di riorganizzazione, non rimane che ricordarvi sempre di iscrivervi, di commentare, mettere il cuoricino per gli grazie, per l'offerta per le spese del canale, per la grappa, per la grappa e Antonio, Silvio, che oggi non c'è, e Bruno, per parte della fotografia, vi inviano un grande saluto alla prossima dalla nuova camera oscura, ciao! Ciao ciao!